Ora per noi italiani non è strano rifugiarsi nel cibo, diciamoci la verità. In effetti che cosa potevamo fare dopo il DPCM? Entri in casa, che fai? Puoi giocare a tombola, quando finisce? E allora mangiare, mangi. Ecco, puoi mangiare sulla tradizione natalizia che vuole a tavola almeno 15 persone, minimo, però proprio i parenti stretti, no? Tre, tre in Italia, tre al massimo in Italia sono quelle che friggono in cucina. Comunque in Italia tre a tavola o 15, i quantitativi sono sempre gli stessi. Per cui noi a Natale, in tre, se siamo magnati, la roba dei 15 persone, come se non ci fosse un domani. E poi dice, dai, finiamola, ma dai, un'altra teglia per uno, e dai, pare brutto, dai, per chi non ce l'ha. Il menù tipo italico è lo stesso in tutte le regioni, diciamo, così. Quindi si parte da un aperitivo, no? Per stuzzicare l'appetito. Quindi un aperitivo, una cosa così, con un antipastino, salamino, verdurina, olive e fritti. I fritti come fai? È tradizione, il fritto. Poi, primo piatto, tortellini in brodo, con sommè leggero in brodo, di tradizione poco brodo perché è pesante. Perché bisogna lasciare spazio alle pappardelle a ragù de cinghiale, alle lasagne de castrato, ai cannelloni fritti, fritti, perché un po' di fritto ci vuole, è tradizione. Secondo, secondo piatto, una volta che uno lascia spazio, se c'è il sorbetto al limone o meno, fai spazio. Secondo, di magro, 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 quindi carnelessa, quindi un quarto de bue magro, per tre persone può bastare, magro, stinco de maiale magro, perché il maiale va preso magro. Tu parli alla stalla, di persona lo riconosci, quelli grassi di città te magno dopo, però quello magro viene, quando lo vedi il maiale che è secco all'osso, ci viene il maiale, e lo prendi, lo porti a casa e fai lo stinco de maiale. Poi, capitone, magro, insalatina, tanto per rifasse la bocca, fritta, bella, leggera, frutta fresca, fritta, frutta secca, fritta, fichi, fichi e datteri, i datteri. Il dattero è una tradizione italica, in effetti il dattero vede la luce una volta all'anno, come il sostizio d'inverno, non è che i datteri te li magni il 6 febbraio o il 4 febbraio, 14 d'agosto. Cioè, beh, però in effetti i datteri non li mangia nessuno, non piace. No, non è vero, i datteri non li mangia nessuno perché non riesce ad aprire la confezione dei datteri. Perché stanno, i datteri, hanno un destino crudele, perché stanno in quelle scatoline di plastica, di cartone, pressato, chiusi, ovali, in celofanatico, e tu tenti di aprirlo, ma è difficile, perché essendo il dattero confezionato in sottovuoto spinto, ma spinto da tre beduini che sono accaniti, quindi, in sabre, c'è gente che per aprirlo, c'è ora il tempo suo, quindi già per mangiarli a Natale, già ad agosto, con il cacciavite, con il cacciavite, con il cacciavite, iniziamo adesso perché non so se riusciamo a mangiarli a Natale. E se li apri, li vedi, fa così, se apri, se confia il dattero, e dici, ma mo' come li prendiamo? Perché il dattero appiccica, la volta che tu metti il dito, non te se leva più. Ho perso un amico che è rimasto senza dito, l'ha lasciato su un dattero. Quindi, dice allora, senti, non rischiamo la vita con la forchettina in plastica, prendiamo una forchetta tradizionale, quella del Defero. Prendi la forchetta, vai lì con energia, bam, l'avventi, fai leva sul dattero, e non te sfugge la forchetta, te sfugge il dattero. Vi un parte, e dritto sulla fronte delle persone che te stanno davanti, da cui la celebre frase idiomatica, dattero un fronte, che si dice, poi che fai? Tra un fico secco riempito di noci, qualche mandorla accompagnata da una noce, da una nocchia, che fai? Non ti mangi i dolci? Eh, dolci, tanti dolci, dolci, guarda che ho fatto, assaggia questo, mangi tutto, che il diabete te corre appresso con il macete, ti vuole già l'insulina, ti vuole strozzare de notte, e caffè col dolcificante, ammazza caffè, amari, grappe, mirti e limoncelli, e fritti, perché vanno finiti, che uno dice, scusa, ma tutto sto fritto dentro a sta casa, che è rimasto da frigge, a parte i pomelli dell'armadio e i bottoni del cappotto, che c'è da frigge? E il colesterolo, te lo frigge non al colesterolo, te lo frigge nella sugna, così poi ti fa un pacchettino, lo porti a casa, lo surgelli e te lo mangi quando ti pare? Poi dici, vabbè, però finito di mangiare, finito questo Natale, il peggio è passato. No, no, perché noi in questa fase, insomma, di quantitativo di giorni, in questo limbo spazio-temporale che c'è tra il pranzo di Natale e il cenone de Capodanno, noi in questa fase sappiamo che dobbiamo depurarci, pur essendo in zona rossa, arancione, se capisce niente, noi ci dobbiamo depurare, lo dicono tutti i dietologi, gli alimentaristi, è il momento delle tisane al Gaviscon, dopo cui i fritti è il minimo, brodini leggeri alla citrosodina, spiedini all'Alka-Seltzer. Bisogna fare attenzione al Pandoro, perché per esempio il Pandoro ha la caratteristica, allora, il del panettone, noi abbiamo la tradizione del panettone, tutti vogliono il panettone per tradizione, però poi incomincia a vedere sul tavolo uno schifo, perché la gente leva i ganditi, leva gli zuccherini sopra, leva l'uva passa e rimane mezzo panettone da fuori. Scusa, perché? Eh, mi piace molto il panettone. La magna di una fetta di Pandoro, perché gli fa sto schifo? Mo chissà magna qua roba, perché non vi piace? Ma l'hai toccata, mo tocca passare la mucchina sull'uva passa, ma scusa. Allora, il Pandoro è pericoloso, perché il Pandoro, allora, il Pandoro non lo fa, allora, va messo il zucchero a vero, lui devi essere diplomato, perché non è facile, è che lo puoi mettere sopra così, perché poi davanza, perché ce lo so, quelli che se lo finiscono così lo zucchero a vero, quello va, tu prendi il panettone, tu lo apri, tu lo apri, zucchero, boom, lo vedi sotto, poi lo prendi piano piano, sopra e sotto, lasci l'aria dentro, che il Pandoro deve ruoteare, tiro i nottellini dalla lotteria, e quello, come una molazza, una betoniera del cantiere, si deve amalgamare con lo zucchero velato. Poi c'è quello, lo taglio io, lo taglio io, che son capace, diffidate. Si riempiono di forfora così, poi fanno che sembra che hanno pippato il zucchero velato, e faccio io, vai. Dopo tre ore che il Pandoro l'hanno ciancicato, perché non è gestibile, perché è fatta a piramide, con le sei, dopo che ci hanno infilato le uni dentro, che con la motosega l'hanno tagliato in pezzi così, che il Pandoro è dufette, tu dici, vabbè, dammene una fettina, leggera, leggera, è piena di zucchero, a quell'altro niente, zucchero velato non c'è, manco per sbaglio, a te è pieno di zucchero velato, e lì devi stare attento, è pericoloso, perché devi concentrare, non devi ascoltare gli altri, perché se putacaso c'è qualcuno tra i parenti, e ti racconta una storia ilare, divertente, gioviale, e tu ne godi e ridi, mori, perché mentre stai mordendo, magari, io ci ho perso un amico, ciao!